La loro nascita non deve nemmeno essere studiata a scuola, non fa parte della storia, ma è un po' esagerato. Giorgia Meloni, lei che idea si è fatta di questa proposta? E vi riporterò al tema delle agevolazioni. No, io però vorrei tornare al tema delle agevolazioni. Però non salti questo. E dica se lei è favorevole o no alla riapertura dei bordelli. Io sono favorevole perché purtroppo vorrei che le cose fossero come dice Lidia Menapace, cioè che dopo l'abolizione, insomma la legge Merlina e tutto quello che abbiamo conosciuto avessimo debellato la prostituzione. Purtroppo pare che la prostituzione in Italia non si riesca a debellare. Quindi lasciare queste ragazze in mano alla criminalità organizzata, in mezzo alla strada, con tutto quello che comporta, non mi sembra la soluzione migliore. Se si trova una soluzione migliore che regolamenta, che fa anche pagare le tasse come le pagano tutti quanti e che non crea degrado, penso che si debba lavorare su una proposta di questo tipo. Però mi interessa il tema delle detrazioni sul quale vorrei tornare. Sì, arriviamo alla replica della Menapace e arriviamo alle detrazioni. Prego. Grazie, stendiamo.